I vibratori esistono anche per il pene? Buongiorno! Benvenuti e bentornati qua sulle Sex and Rose Io sono Ivano e la voce fuori campo Ok, oggi parliamo di vibratori per il pene e in particolare di uno, il Fan Factory Manta che è questa robina qua Il Manta è un vibratore per il pene che ha una forma un po' insolita perché come sono fatti di solito facciamo un passettino indietro prima della creazione di questo strumento da parte di Fan Factory la stessa Fan Factory aveva invece inventato le scatolette vibranti tipo il Cobralibre questa è la seconda versione di questo sex toy che è poi stato copiato n.mila volte da qualsiasi azienda esistente che abbia deciso di produrre un sex toy vibrante per il pene Come funziona? Si accende tramite il tasto fan e si inserisce il pene dentro questa scatoletta che vibra Queste scatolette, il Cobralibre ma anche altre che sono state poi create nel tempo non fanno parte delle sleeve perché non abbracciano tutto il pene ma sono molto corte quindi già qua sono arrivato in fondo e servono soltanto per masturbare la testa del pene quindi il glande il movimento masturbatorio è diverso quindi non c'è il classico movimento che possiamo fare con una sleeve non si stantuffa fondamentalmente ma è più il movimento che si potrebbe fare con un temperino non tempera matite quindi si muove in questo modo qua cercando di trovare la posizione giusta oppure si lascia fermo e appoggiando il pene all'interno la testa del pene soltanto viene stimolata con le vibrazioni e può anche funzionare in questo modo io l'ho trovato un po' limitante perché è innanzitutto per un utilizzo single quindi in solitaria e soprattutto perché è silicone è la forma è il tipo di vibrazioni è il fatto che comunque il movimento che si deve fare per masturbarsi è molto scomodo deve proprio piacere ecco dunque usando un po' di immaginazione loro di fanfactory dicono che mentre il partner ha il pene dentro noi ci possiamo eventualmente appoggiare esternamente sopra sedendoci perché questo oggettino qua oltre a trasmettere vibrazioni dentro le trasmette anche fuori quindi andrebbe a stimolare un pochettino la nostra area del perineo oppure la vulva secondo me è molto pretestuosa questa cosa insomma però loro dicono così la prendiamo così fate voi prendetela come volete questa informazione come si aggiustavano i pene dotati prima che venisse inventato il manta ci si aggiustava con le wand quindi si prendeva una wand come questa ad esempio si accendeva e si appoggiava la testa della wand sul glande o sul frenulo in modo tale da stimolarlo anche magari in una dinamica di coppia quindi mentre magari si praticava un affellazio oppure giocando un pochettino con le vibrazioni e col pene era un metodo un po' rudimentale però funzionava e funzionava sicuramente meglio diciamo delle scatolette fino a che non è stato inventato il manta e adesso perché è così rivoluzionario secondo me innanzitutto è molto versatile quindi una volta acceso queste due braccine qua possono aggrapparsi intorno alla testa del pene del glande ma possono anche scorrere sull'asta completamente e quindi andando a creare un massaggio molto differente e molto più adatto a ciascun corpo e a ciascuna persona si può utilizzare anche in una dinamica di coppia si può appoggiare il pene qua in mezzo e poi dall'altra parte ci può essere il nostro partner che ci va a stimolare in n modi differenti restituendo anche parte delle vibrazioni anche all'altro corpo la cosa interessante è che nello studio della forma di questo sex toy del manta Fan Factory ha dato molto spazio anche al lubrificante che secondo me è fondamentale per l'utilizzo di ogni sex toys quindi in questo caso qua abbiamo non soltanto una parte zigrinata che permette al lubrificante di non scivolare via ma proprio anche qua un solco più profondo dove il lubrificante si può raccogliere e può essere restituito durante l'utilizzo del sex toy stesso quindi ne mettiamo anche un po' di più cade qua in mezzo ma comunque viene utilizzato non viene perso che secondo me è una cosa molto intelligente il silicone del manta come il silicone del Cobra Libre ha una particolarità non è molto bella attira tantissima polvere purtroppo perché è un tipo di silicone che utilizza Fan Factory di grado medicale sicuro per il corpo fantastico però questo specifico attira un sacco di polvere quindi prima di utilizzarlo ricordiamoci sempre comunque di passarlo almeno sotto l'acqua e tamponarlo con un asciugamano il manta ha 6 velocità e 6 tipi di stimolazioni differenti quindi può stimolare da molto molto poco a veramente veramente forte il nostro pene non pesa molto pesa circa 230 grammi quindi si tiene in maniera abbastanza agile sicuramente più agile di una wand in mano anche durante l'utilizzo e una cosa importante che non ho detto prima è che si può iniziare a utilizzare anche senza avere un'erezione in realtà anche il Cobra Libre però mi piace insomma sottolineare questa cosa qua specifica perché queste due braccine sembra che vogliano dire ok abbracciamo qualcosa di grosso di inerezione mentre invece se appoggiamo il pene qua dentro con le vibrazioni possiamo aiutarci anche a raggiungere un'erezione quindi è molto carino anche per questo oltre a essere molto lucicoso che personalmente è una caratteristica che amo tantissimo ci sono in realtà altri vibratori per il pene che sono travestiti da altro quindi che non sono né le scatolette tipo il Cobra Libre non sono sicuramente il manta e non sono neanche delle sleeve se non sapete che cos'è una sleeve guardate nel blog ci sono sicuramente informazioni riguardo ovviamente comprate il libro come ad esempio questo qua di Hotouch che è un'azienda cinese non lo nascondono che lavora molto bene sinceramente che ha creato questa scatola enorme questa scatola profonda infatti non è pensata solo per stimolare la testa del pene ma tutto il pene anche con un movimento masturbatorio anche se ha un silicone all'interno che è molto più rigido rispetto al silicone ad esempio del manta è una scatoletta che vibra è una scatoletta che si riscalda è una scatoletta che si può utilizzare in maniera anche soddisfacente sicuramente è un ibrido è un vibratore ma non è una sleeve il grande vantaggio che ha è oltre ad accogliere tutto il pene e a vibrare e a riscaldarsi all'interno ha anche un'interfaccia grafica che permette di capire in quale pattern siamo finiti che è una cosa non da sottovalutare soprattutto quando abbiamo a che fare con tanti pattern differenti e nessuna indicazione rispetto a quello che l'oggetto ci sta in qualche modo fornendo e quindi ci dà una bussola fondamentalmente per riuscire a capire in che pattern siamo e come andarlo a ripescare eventualmente poi per un secondo utilizzo rispetto a una sleeve un altro grande limite che ha questo ibrido è che non si può schiacciare ha un case esterno che è molto duro quindi durante l'uso non può essere in qualche modo compresso che è invece una qualità delle sleeve di solito è rigido come silicone all'interno e quindi fa di questo ibrido più una scatoletta vibrante che è una sleeve un vibratore che vuole far raggiungere l'orgasmo appunto tramite le vibrazioni pur avendo usato con soddisfazione o touch anche se esteticamente non era quello che proprio mi piacesse in particolar modo vince questa ipotetica gara dei vibratori per pene il manta per il semplice fatto che è molto versatile io all'inizio non le avevo dato molto credito perché non avevo capito come utilizzarlo poi in seguito imparando anche ad ascoltare il mio corpo e soprattutto a scegliere il giusto pattern e il giusto lubrificante avevo sbagliato anche il lubrificante all'inizio ne parleremo in un altro video di lubrificanti l'ho rivalutato molto e mi ha fatto effettivamente godere molto si può dire cosa che invece il cobra libre non lo facciamo neanche più vedere non merita più niente non ha mai fatto in vita sua quindi se posso darvi un consiglio se state cercando un vibratore per il pene io non sbaglierei con questo grazie a tutti grazie a tutti